Meggiugorie è la parrocchia che la Madonna ha scelto ed è la parrocchia che i milioni di pellegrini in questi anni visitano e frequentano. Sì, quando la Madonna apparsa qui nel 1981 tante persone si erano chieste come mai avesse scelto proprio questa parrocchia. Ricordate che la chiesa di San Giacomo era già presente allora quindi c'era già e la Madonna ha risposto e ha detto ho scelto questa parrocchia perché desidero guidarla e possiamo dire che effettivamente lei l'abbia fatto anche se diciamoci la verità la maggior parte dei pellegrini che arrivano qua pensano che in realtà il pellegrinaggio si snodi prevalentemente sulle colline sul concetto dell'apparizione e invece fin da subito la Madonna ha fatto capire che il cuore pulsante del pellegrinaggio a Meggiugorie è proprio la parrocchia. Anzi ha detto di più se dovete scegliere se venire alla collina delle apparizioni per proprio nel momento della stessa apparizione o la Santa Messa ha detto scegliete la Santa Messa perché là c'è mio figlio ed è proprio qui ecco allora attraverso queste guglie questi due campanili così inconfondibili ormai famosi in tutto il mondo e e durante le celebrazioni e si snodano lungo tutta la giornata davvero troviamo la grazia troviamo le grazie troviamo Gesù e ci accorgiamo proprio che se la Madonna ci chiama ci chiama per portarci per mano a suo figlio Gesù sì lei dice che solo in suo figlio solo in Gesù c'è la vera pace e molti pensano che Meggiugorie sia tanto protagonismo mariano invece Meggiugorie è cristocentrico e questa è una grande sorpresa gli stessi sacerdoti che vengono qua per la prima volta si stupiscono proprio di questo del fatto che le celebrazioni e parliamo quelle pomeridiane quindi il rosario la Santa Messa l'adorazione la venerazione alla croce la preghiera di guarigione e di liberazione ma lo stesso sacramento della confessione siano proprio al centro del pellegrinaggio e non diciamo una parte marginale una parte importante la Madonna lo dice perché ad esempio l'eucarestia e la confessione sono due dei famosi cinque sassi di Meggiugorie e invita tutti i giorni a venire qua per trovare la vera pace perché la pace è proprio in suo figlio e infatti gran parte del pellegrinaggio è anche trascorrere del tempo in silenzio in preghiera camminando passeggiando con un rosario in mano e respirando quest'aria che è un'aria che è sfiorata toccata permeata proprio di spirito santo e della potenza che viene dai sacramenti esatto sin dall'inizio il parroco di Meggiugorie Padre Ioso il parroco del che era qui in parrocchia proprio nei primi giorni dell'apparizione aveva proprio capito che sia i parrocchiani sia i pellegrini che mano a mano negli anni arrivavano avevano proprio bisogno di questo e quindi tutti i pomeriggi da allora inizia un programma di preghiera piuttosto consistente è vero noi spesso siamo abituati anche a partecipare alle nostre messe domenicali di corsa 50 minuti un'ora a dir tanto invece qui come se la madonna ci chiedesse trascorrete del tempo qui con mio figlio in adorazione in preghiera recitando prima il rosario non soltanto nei cinque suoi misteri vero ma in tutti i misteri che contemplano proprio l'incarnazione tutte le parti del rosario prima e dopo la santa messa e poi anche dopo la santa messa quante volte siamo abituati ad andare frettolosamente via dopo la benedizione o dopo la comunione nei peggiori dei casi ci chiede proprio no fermatevi e pregate e qui in croazia c'è una bella abitudine che è quella anche della preghiera dei sette pater ave gloria quasi a il credo quasi a vivere la comunione sì quando la madonna qui apparsa ha capito forse che doveva insegnare metto tra virgolette questa parola ai pellegrini ai parrocchiani di nuovo la bellezza della preghiera affinché appunto non sia un rosario sgranato di fretta e anche un po in maniera automatica ma che sia proprio un dialogo tra il cielo e la terra una preghiera con il cuore e quindi ha detto iniziamo da rispolverare una vecchia preghiera tradizionale che qui era recitata spesso ed è la preghiera appunto dei sette pater ave gloria del credo e poi ha chiesto una parte del rosario la seconda parte la terza parte addirittura papa giovanni paolo secondo ha istituito i misteri della luce e quindi se ne recitano addirittura quattro di parti e scoprire la santa messa non appunto come oh mamma mia l'omelia è stata lunghissima questa volta o esco alla comunione ma proprio come momento di incontro con gesù incontro che si fa vivo poi nel momento delle dell'adorazione eucaristica della venerazione della croce e poi quante volte arriviamo qui a fare con tutti i nostri carichi sulle spalle e nel nostro cuore e con una preghiera bellissima di guarigione di liberazione ci sentiamo subito più sereni più leggeri essi è vero e spesso abbiamo proprio bisogno anche di guarire guarire e anche qui troviamo proprio la preghiera di guarigione liberazione non come qualcosa di magico ma come la vivere quella comunione che hai ricevuto vivere quella preghiera col cuore che ti cambia che ti trasforma questo è il pellegrinaggio a medjugorje e c'è un aspetto anche che io reputo sempre un po spinoso soprattutto con i pellegrini che non sono abituati ad accostarsi al sacramento della confessione a casa la madonna chiede di confessarci qui a medjugorje almeno una volta al mese questa abitudine chiamiamola così dovrebbe continuare anche nella quotidianità quando il pellegrinaggio poi termina e si torna a casa e se normalmente da noi non ci sono problemi no uno arriva in chiesa negli orari stabiliti il confessionale generalmente è vuoto nel senso che c'è il sacerdote ma non c'è coda qui a medjugorje succede l'esatto opposto quindi i confessionali sono pieni ovviamente davanti ci sono delle code abbastanza consistenti e a volte succede anche una cosa un po particolare no sembra quasi che il pellegrino sia guidato da una regia invisibile che è quella della madonna perché a volte uno si mette in coda in una fila poi succede qualcosa del tipo il sacerdote ha finito quindi si cambia fila si aspetta si insomma succede che quasi sempre arriva la persona che è lì per te e effettivamente tu la trovi che ti dà le risposte che ti aiuta a capire che nel confessionale non c'è un giudizio ma c'è l'amore è una misericordia sì perché non finisce non termina mai un pellegrinaggio a medjugorje senza una buona confessione tanto che medjugorje la definiva san giovanni paolo secondo il confessionale del mondo e quindi vedi analisa noi l'abbiamo vissuto tante volte lo stiamo vivendo anche in questi giorni per tutti il pellegrinaggio a medjugorje è lo stare per cinque quattro giorni in una parrocchia scoprire il volto bello della chiesa della chiesa intera e essere guidati dalla dolcezza e dalla carezza della madonna vero sì è vero e se avete delle esperienze se volete raccontarci quello che avete vissuto a medjugorje proprio qui in parrocchia scrivetecelo nei commenti grazie 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 a tutti.